Sono stati consegnati stamattina all'impresa Capicella Emanuele i lavori per la manutenzione straordinaria degli uffici della soprintendenza dei beni culturali di Caltanissetta che si trovano all'interno del parco archeologico locale nell'area di Bosco Littorio. Le opere per un importo di 250.000 euro riguardano i ripristino e l'adeguamento complessivo, inclusi tutti gli impianti di due fabbricati, un tempo adibiti a colonia estiva marina per i quali l'ultima attività di manutenzione risale a circa 30 anni fa. Locali che saranno riqualificati sia nella parte adibita d'uffici che in quella di accoglienza dell'utenza e di sistemazione dei magazzini adibita deposito di beni archeologici provenienti dagli scavi nel territorio che appartengono alla soprintendenza. Ieri sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria degli uffici sede della soprintendenza ai beni culturali di Caltanissetta che hanno sede all'interno del Bosco Littorio a Gela. È un intervento il cui importo complessivo di 250.000 euro proviene da opere di compensazione ambientale relative alla realizzazione degli impianti per la produzione di biocarburanti dell'eni di Gela. È un intervento particolarmente significativo sia perché restituirà dignità ad un edificio sede un tempo della colonia marina che da tanti anni non è stato oggetto di interventi appunto di manutenzione e anche perché consentirà la sistemazione dei magazzini archeologici che si trovano appunto all'interno di questi spazi. Per quanto attiene magazzini l'intervento che sarà effettuato con l'ausilio di archeologi specializzati che opereranno sotto la direzione scientifica della soprintendenza consisterà nella sistemazione dei reperti con revisione dell'inventariazione degli stessi anche al fine di garantirne la fruizione per attività di studio e ricerca. I lavori saranno coordinati dalla soprintendente dei beni culturali di Galtanissetta Daniela Vullo e saranno diretti da Salvatore Barbera con la collaborazione di Antonino Ristagno e Camillo Romano, responsabile unico del procedimento e Salvatore Stimolo. La sistemazione dei magazzini archeologici che verrà condotta naturalmente con l'ausilio e sotto la direzione di archeologi specializzati consentirà la fruizione dei magazzini e quindi permetterà agli studiosi di poter avere accesso ai magazzini e quindi almeno in parte il patrimonio archeologico che si trova nei magazzini potrà essere restituito alla fruizione anche se soltanto per motivi di studio. I lavori di costruzione del museo che ospiterà la nave greca di Gela che attualmente è in fase di realizzazione all'interno del parco archeologico di Gela a Bosco Littorio sono in fase abbastanza avanzata. Siamo soddisfatti dell'andamento dei lavori che nonostante la pandemia che ha rallentato tutti i cantieri perché l'approvvigionamento dei materiali negli ultimi tempi risulta particolarmente difficile, complessivamente hanno rispettato il cronoprogramma. è stata già completa la struttura con la bellissima copertura linea che ricorda uno scafo rovesciato e nei prossimi mesi saranno completati gli impianti e realizzate tutte le finiture.